Saranno oltre 80.000 gli elettori chiamati alle urne nei comuni del comprensorio con Cerveteri e Ladispoli che, curiosamente, hanno quasi lo stesso numero di votanti. Domani nella città balneare saranno chiamati alle urne 29.305 elettori, per la precisione 15.147 femmine e 14.158 maschi, compresi i residenti all'estero. Per la Camera dei Deputati sono chiamati al voto 28.507 elettori, 14.766 femmine e 13.741 maschi. Per il Senato sono invece chiamati al voto 25.836 elettori, tra cui 13.469 femmine e 12.367 maschi. Il Comune di Ladispoli ricorda che per il rilascio e il duplicato delle tessere elettorali gli uffici sono aperti fino alle 23 di domani. A Cerveteri, invece, per la Camera dei Deputati, sono chiamati alle urne in 28.693, tra cui 14.023 uomini e 14.670 donne. 26.224 i residenti nella città etrusca che hanno diritto di voto per il Senato, tra cui 12.781 uomini e 13.443 donne. 29.442, infine, coloro che possono votare per le regionali, tra cui 14.421 uomini e 15.022 donne. Anche a Cerveteri, ufficio elettorale aperto, fino a domani sera alle 23. Pure a Santa Marinella, grande diversificazione di elettori chiamati alle urne a seconda della consultazione. Gli aventi diritto per la Camera sono 14.566, mentre quelli per l'elezione del Senato sono 13.607 e quelli per l'elezione del nuovo governatore e del nuovo consiglio regionale sono 15.053. Infine, tra Tolf e a Lumiere saranno quasi 8.000 gli elettori chiamati alle urne, con il primo centro, che è un numero di eventi diritto superiore di quasi 800 unità rispetto al secondo.